Ci siamo spostati in questo momento in Danimarca, quindi fa un pochino freddo, ma c'è una vettura che riuscirà sicuramente a scaldarci gli anni. Stiamo parlando della nuova Zembo TSRS, la rete della Zembo TSR, la vettura unicamente da pista. Questa guadagna la sigla S, dove S sta per Street. Street perché questa vettura è praticamente un'auto, come potete vedere anche da queste immagini, che è praticamente da pista, ma è miracolosamente omologata per l'utilizzo stradale. E' un vero e proprio missile per gli appassionati da pista che vorranno utilizzare, sia in pista che è comunque anche su strada. Possiamo vedere un attimo a pochettarci sul frontale dove troviamo il carbonio a pioggia, oserei dire, qui intorno ai gruppi ottici, o qui nella parte bassa, dove troviamo questo splitter immenso, anche qua, con questa gigante presa d'aria, che aspira l'aria, la fa abbastanza nei radientori e fuoriesce qui anteriormente, si parla un po' il principio delle S-DAT di Forma 1, che ormai stanno iniziando ad utilizzare quasi tutte le supercar del mondo. Un piccolo, diciamo, una piccola azienda danese che tuttavia retinge quindi con questa vettura la terza auto in gamma. Dopo abbiamo detto la TSR, utilizzata semplicemente da pista, e la TS1, che è la vettura, diciamo, un po' più tranquilla. Questa si interpone tra le due vetture e, diciamo, parliamo subito del propulsore. Il propulsore è il cuore pulsante di questa vettura, che sfoggia un V8 5.8 litri dotato di doppia sovralimentazione. Avete capito bene, non si parla di twin turbo, ma di un doppio compressore volumetrico. Andiamo a dare ancora uno sguardo al posteriore, guardate che razza di immensa ala. Questa è la mia mano e l'ala è ancora molto più grande. Possiamo vedere poi, qua ci sono due bracci, due sospensioni, che faranno lavorare questo elettore in un modo particolare che ora vi mostreremo. Ovviamente è tutto realizzato in carbonio, imperniato qua nella parte posteriore della carrozzeria. Guardiamo un attimo anche il posteriore, dove troviamo questi due immensi cannoni che faranno urlare il biotto di questa vettura in un modo veramente pazzesco. Estrattore, manco a dirlo, anche questo in carbonio è veramente gigante, cioè ci possiamo veramente sdraiare sotto la vettura. Qui abbiamo un'altra presa d'aspirazione dal quale si intravede il pneumatico. Diamo uno sguardo anche ai pneumatici, che sono marchiati Michelin da 21 pollici e 325 di sezione. Ovviamente stiamo parlando di Pilot Sport Cup 2, perché qua le prestazioni sono altissime e le ruote devono ovviamente accompagnare. Abbiamo anche impianto frenante marchiato Zembo, 4 pistoncini a posteriore e 6 pistoncini al frontale, realizzato con dischi carboceramici. Adesso chiediamo un attimo al ragazzo di Zembo se ci aiuta nel movimento dello sterzo per farvi vedere come funziona poi l'alettone. Nel frattempo che lui arriva diamo uno sguardo anche all'interno, che è praticamente realizzato anche questo interamente in carbonio. Possiamo vedere qui la scocca e quindi l'appoggio è realizzato in carbonio. Delaio che alterna quindi carbonio, alluminio e acciaio ultra resistente. L'interno è veramente uno spettacolo, un mistralcantara, carbonio, tessuto rosso e diciamo chi più ne ha più ne mette. È veramente uno spettacolo. Guardiamo anche qua in basso la parte della minigonna, anche qua interamente realizzata in carbonio. Una vettura veramente pazzesca che riuscirà praticamente a realizzare qualsiasi sogno dei possibili proprietari. Ecco il ragazzo che adesso si introduce nella vettura, facciamo vedere come funziona lo sterzo e come questo aggiunge sull'alettone. Aspettiamo, possiamo già vedere, lui sta frenando, guardate che escursione ha questo alettone, è qualcosa di pazzesco. Il ragazzo sta sterzando e vediamo che l'alba praticamente si muove sui tre assi, è pazzesco. Non ho mai visto nulla del genere, presumo che Zenvo abbia brevettato questa soluzione, possiamo vedere che lui continua a muovere lo sterzo e questa continua a muovere. Ovviamente si posizionerà in questo modo quando dovrà frenare e diventerà piatto come in questa configurazione quando cerca di raggiungere la velocità massima. Ritorniamo a parlare del propulsore perché vi ho parlato di come è composto i cilindri ma non vi ho detto la potenza. La potenza è di ben 1177 cavalli e 110 Nm, cavalli spregionati a 8500 giri mentre Nm spregionati a circa 5500 giri. Un motore veramente pazzesco, non so come sia stata possibile l'umologazione prodotto stradale ma è veramente qualcosa di fenomenale. Il motore per tentare inoltre è una sette tagge diverse, minimum, maximum e IQ. Minimum è una configurazione da soli 700 cavalli per un utilizzo, soli insomma, come sempre 700 cavalli per un utilizzo più, diciamo, mansueto. Si passa poi a maximum dove la vettura riuscirà a spregionare tutti i 1700 cavalli. È praticamente la vettura da corsa che più, diciamo, riesce ad avvicinarsi alle competizioni su pista per un utilizzo stradale. La lezione si chiama Sentry Petal, è probabilmente, come ho detto prima, un brevento di Zembo, poi chiederemo successivamente dove potete trovare tutti i dettagli sul nostro servizio. Non abbiamo ancora informazioni circa il prezzo della vettura, tuttavia Zembo promette una produzione di circa 5 sempli a rilancio. La produzione è già avviata, quindi se avete abbastanza soldi, vi piace questa vettura e volete spregionare i sui 1600 cavalli su strada, non fate altro che mandare una mela a Zembo e la vettura sarà probabilmente vostra.